L'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo e il sindaco di Castella Zara Maurizio Coppi hanno firmato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze un accordo per il recupero di una piscina nel parco comunale dell'ex vivaio nel comune Grossetano, contributo di 400 mila euro per un'azione che è il primo tassello di un protocollo firmato nel giugno 2019 per la promozione e salvaguardia dell'intero territorio. Credo che questo sia un percorso esemplare, a suo modo rappresenta una modalità di azione che noi cerchiamo di mettere in campo in maniera più efficace possibile verso quelle parti più rarefatte del territorio regionale. Alla base dell'accordo per la riqualificazione dell'ex vivaio che rientra nel progetto Laboratorio Ecosistema Comunale seglato tra regione e comune di Castella Zara c'è la volontà di mettere in campo interventi che contrastino lo spopolamento delle zone montane e decentrate. Per un aiuto così importante dalla regione toscana per mettere e attivare di nuovo una piscina con anche un'area camper, dà la possibilità di lavoro e di portare del turismo nel nostro territorio e quindi ridare vita al nostro territorio.